Un palazzo degli anni 60, figlio dell'epoca della cementificazione ormai da anni abbandonato. Stiamo parlando del centro Nazareth di Pescara di proprietà della fondazione Paolo VI. Una struttura completamente obsoleta con evidenti problemi strutturali. Le sezioni Archeoclub Italia Nostra di Pescara propongono l'abbattimento per ridare valore al centro storico completamente deformato da questo palazzo. Io ho visto personalmente una commissione consigliare entrare in questo edificio che era stato abbandonato e svuotato per motivi strutturali. Ho raccolto e chiesto informazioni al comune di Pescara e mi è stato detto da persone autorevoli che c'era in atto un tentativo del proprietario dell'ente dell'edificio, cioè la fondazione Paolo VI, di partenariato con il comune di Pescara per ristrutturarlo e ripristinarlo con i fondi del PNR. A questo punto mi sono allarmato ancora di più e ho chiesto agli amici di Italia Nostra di un'azione comune. Noi pensiamo ad un trasferimento degli attuali volumi in un'altra posizione, che ci sia il partner comune o ci sia un partner privato, concettualmente non cambia, semplicemente questi volumi, senza che se ne perdano i diritti e quindi anche i ricavi, debbano essere realizzati da un'altra parte. In questo modo non solo recupereremmo uno spazio o giardino con i ruderi del convento in pieno centro storico, ma avremmo magari un'occasione per riqualificare altre parti della città. È una proposta collaborativa di cui si può studiare la fattibilità e che in città è stata già praticata in altre situazioni.